popolo giallorosso buon pomeriggio a tutti voi buona domenica e dopo circa dieci giorni in cui non ho fatto video sul mio canale anzi forse 7 8 giorni perché comunque settimana scorsa avevo fatto la live con mi chi glielo red sul suo canale purtroppo con questa pausa delle nazionali veramente c'è poco da da dire allora ci manca poco ragazzi manca pochissimo qualche ora e sarà juventus e roma forse la partita delle partite in casa giallorossa forse più del del derby in alcune in alcune circostanze formazione naturalmente ancora non data c'è qualche insomma sensazione che però non trovano conferme la tensione sale ragazzi l'ansia sale è una partita importantissima per la roma perché adesso ci aspetta un trittico terrificante che se non ricordo male abbiamo juve napoli e milan in cui la roma deve dimostrare assolutamente a differenza dell'anno scorso che se la può giocare anche con le grandi del campionato è una partita insomma difficile per tanti motivi per tradizione perché comunque la roma dopo le soste della nazionale fa sempre gran fatica abbiamo qualche giocatore acciaccato qualche giocatore reduce dalle nazionali qualche infortunio vedi abram che comunque è stato convocato e pellegrini viene da una settimana di febbre eh vigna viene dal solito volo transoceanico dall'uruguay insomma abbiamo un po' di di problemini anche se obiettivamente anche la juve ne ha di diversi eh è una partita che importante perché perché la roma deve scrollarsi di dosso questa eh questa situazione di stare sempre lì per lì per fare il salto di qualità e poi mancabilmente non riesce specialmente con le grandi squadre e stasera dobbiamo dimostrare anche dal punto di vista caratteriale mentale della voglia di poter portarci a casa questi tre punti vincere a torino con la juve e guadagnarci questo terzo posto in classifica sarebbe veramente una vittoria che vale triplo non doppio oltre al fatto di avere una vittoria di prestigio a torino dove abbiamo vinto mi pare una volta negli ultimi dieci anni forse quindici anche se poi alla fine la vittoria che abbiamo fatto due anni fa l'ultima giornata manco la reputo una vittoria insomma della roma torino con la juve così fondamentale anzi abbastanza inutile lasceremo dietro squadre come lazio atalanta juve fiorentina e e comunque potremmo dire di stare nella zona champions vera e propria pronti ad affrontare un napoli con un altro tipo di atteggiamento di mentalità di caratteri di voglia di atteggiamento positivo di consapevolezza dei propri mezzi chiaramente sappiamo benissimo che la partita è molto complicata questa sera perché ripeto la tradizione della roma in casa da io è abbastanza eloquente e dobbiamo assolutamente comunque fare una partita di carattere quello non deve sfuggirsi dobbiamo lottare su ogni pallone dobbiamo combattere su ogni pallone e dobbiamo comunque far vedere che la roma c'è che la roma è presente in questo campionato che la roma nonostante obiettivamente abbia una rosa minore di quelle quattro cinque squadre può comunque sopperire a questa a questa mancanza con il carattere con la voglia con lo spio di squadra di sacrificio chiaramente la formazione non ancora non è ufficiale però la possiamo abbozzare poi con gli eventuali dubbi di formazione allora lui patrizio 100 per cento importa 100 per cento giocherà casrop sulla destra e al cento per cento possiamo dire che i banez e mancini saranno i difensori centrali visto l'assenza di smalling a sinistra si secondo me giocherà vigna comunque ragazzi il problema è che se vigna fa la stessa partita che fece contro la lazio con felipe anderson ragazzi se da quella parte c'è chiesa sono dolori veramente quindi secondo me murigno si affiderà comunque a vigna in alternativa a cercare la fiori comunque quella è la fascia che un po più mi preoccupa come mi preoccupa quell'altra dove magari potrebbe giocare culuseschi un'altra insomma ala molto veloce o un quadrato spottando chiesa a destra e quadrato a sinistra insomma sulle fasce ragazzi dobbiamo fare una partita molto molto attenta speriamo che i banez e mancini becchino la loro giornata sì e non la loro giornata dove fanno minchiate a rotta di collo perché in questo inizio di campionato hanno alternato buone partite a partite disastrose come quelle di Verone con la Lazio per cui dobbiamo augurarci anche quello centrocampo ragazzi purtroppo è quello Veretù è cristante e la cosa fondamentale ragazzi è che ci sia oggi oggi stasera un Veretù veramente in palla perché deve sopperire soprattutto alla poca dinamicità dal poco dinamismo di Cristante che in mezzo al campo chiaramente è un anello debole perché è un giocatore abbastanza letto quindi Veretù stasera deve essere assolutamente in palla perché altrimenti soffiremo terribilmente il centrocampo anche se la Juve non è messa meglio di noi però ha un Locatelli in più che sta facendo molto bene davanti ragazzi ci sarà Zagnolo con Pellegrini, Mkhitaryan e probabilmente Shomulodov anche se c'è un po' di Rebus in attacco perché secondo me se Abram è possibile che giochi se sta bene giocherà lui assolutamente anche se è un po' acciaccato anche se io obiettivamente se il giocatore non è al 100% lo risparmierei un po' perché comunque ci aspetta un'altra partita importanti come quella di Napoli un po' perché i difusi da Juventus Bacchiellini e Bonucci legnano come pochi e quindi eviterei insomma di sovraccaricare quell'infortunio Shomulodov doveva partire da titolare anche se nelle ultime ore si è sentita anche la voce di Maiorale che a mio modo di vedere meriterebbe una scienza da partire da titolare per quello che di buono ha fatto l'anno scorso Zagnolo deve confermarsi buoni risultati di prestazione che ha fatto ultimamente Pellegrini dovrà dimostrare di fare la differenza anche con le grandi squadre nonostante arrivi come ho detto prima da un periodo insomma di febbre quindi non è sarà al 100% e dobbiamo anche sperare che Miki Darian faccia la sua partita di sostanza come ha fatto ultimamente nelle ultime due e non si eclissi troppo su quella flascia come invece è successo in altri ripeto ragazzi la partita è difficile è complicata la Juve sta andando bene ha trovato la quadra su due partite che non subisce gol deve avvicinarsi alla vetta e insomma ci sarà da lottare da combattere da soffrire però la Roma se vuole veramente come ho detto prima fare il salto di qualità e cercare di di stabilirsi pienamente nelle zone alte e di combattere veramente per un posto in Champions deve giocare un'ottima partita è chiaro che anche un pareggio non sarebbe male l'importante è che non faccia la solita partita inconcludente magari in avanti e che poi prendi dei gol stupidi dietro magari per colpa dei difensori o per atteggiamenti sbagliati da parte della squadra quindi se dobbiamo perdere vorrei perdere perché la Juve è stata superiore dal punto di vista tecnico e tattico e non perché la Roma non abbia giocato non abbia lottato abbia fatto a cazzate di su quindi ragazzi che devo dirvi forza Roma forza Roma dai ragazzi regalateci questi tre punti fondamentali e ci sentiamo stasera per il commento della partita e intorno alle 11 e un quarto sul mio canale ci sarà la solita live post partita con michi yellow red e nick giallorosso quindi ragazzi per adesso vi saluto e sempre forza Roma